Ciao, piacere, sono Nicolò, vengo dal sud Italia e frequenterò per un anno il liceo a San Valle, nello stato dell'Aidaho. Io sono la mamma di Nicolò, sono una mamma molto orgogliosa e felice della sua nuova esperienza. Le mie aspettative quest'anno sono molto forti perché frequenterò il liceo e punto a diplomarmi e quindi a raggiungere obiettivi molto alti. Un anno sarà molto lungo rispetto all'anno scorso che è stato via soltanto per un mese ed è stato anche abbastanza. So che sarà un'esperienza molto importante e impegnativa per lui e noi siamo qui ad aspettarlo. Ciao, arrivederci al prossimo anno.